Per la prima volta in assoluto si terrà nel Cilento l'iniziativa del presepe vivente e itinerante organizzato dall'associazione Nascette a Novi, costituita da un gruppo di persone che risiedono nell'antico borgo cilentano di Novivelia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni. Lo scopo di questa iniziativa è quello di ricercare le abitudini e le tradizioni che un tempo si svolgevano a Novivelia e nel resto del Cilento e che con il passare degli anni sono state dimenticate. Lo scorso anno l'evento si è tenuto nel comune di Rutino a causa di problemi burocratici che hanno impedito la realizzazione nel comune di Novivelia. Quest'anno l'evento vede i protagonisti tre borghi, Novivelia, Culla della Manifestazione, Rutino e Bosco di San Giovanni a Piro, grazie al patrocinio delle rispettive amministrazioni ed anche al patrocinio della provincia di Salerno. La nuova edizione si aprirà il 14 dicembre a Novivelia. Alle 17.30 è prevista la cerimonia di apertura con ufficiale taglio del nastro ed intervento del sindaco Adriano di Vita presso la Porta Greca. Il presepe coinvolge tutto il centro storico medievale del Borgo Novese e può contare sulla partecipazione della maggior parte dei paesani. Gli oltre 100 figuranti animano in molti spazi allestiti con botteghe artigiane, cantine, osterie e con la rappresentazione degli antichi mestieri, tra cui il rotino, il calzolaio, il fabbrio, il casaro, la bottiga dell'uncinetto, il macellaio, lo scudiero e altro ancora. Gli altri appuntamenti che si terranno a Novivelia sono il 15, il 29 e 30 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019, con la chiusura prevista in piazza Longobardi con serata musicale ed estrazione della lotteria Nascette a Novi. Le date prevedono anche spazi artistici e culturali e spettacoli musicali. Infatti il 15 dicembre si terrà il concerto con i Chiepò in ricordo Renatale nell'ex chiesa San Giorgio ed il 30 dicembre concerto con i maestri Ciullo e Gaudio ed i loro allievi. Le date degli altri due borghi cilentani sono previste per il 22 dicembre a Rutino ed il 5 gennaio 2019 a Bosco, frazione di San Giovanni Appiro.